Ma non vorrei però lasciarvi con dei dubbi. Io odio profondamente l'Europa perché è un'opera disgustosa. Disgustosa perché sono 20 persone che decidono sul destino di 400 milioni di persone. E non è il Parlamento, il Parlamento non conta, da nessuna parte. Non vedete che nessuno va più a votare, cosa volete che conti un Parlamento? Contano le commissioni, 20 persone che sono 20 consulenti delle grandi transnazionali che decidono sul destino di 400 milioni. E non è un'opera di colonizzazione questa. Ci hanno chiesto se siamo d'accordo sull'Europa, abbiamo votato, abbiamo espresso un desiderio. Ci hanno detto che c'è l'accordo di Mastri. Leggete l'accordo 157 nell'accordo di Mastri e vedrete cosa c'è scritto. C'è scritto che loro possono prendere qualsiasi decisione, i 20 persone, senza che nessun Parlamento o Governo possa intercedere. Loro non hanno facoltà di decidere qualsiasi cosa. Possono venirti a comprare a Roma l'acquedotto, a Torino l'acqua potabile e gli devi garantire gli investimenti. Dio mio, abbiamo delegato la nostra vita a dei malati mentali.